Ciao a tutti, ringrazio Carabinero per aver organizzato questa presentazione di Castagna Matteo, ringrazio anche Tritta e Flavio che si è circa oggi. Volevo dire di andare a votare il 4 dicembre perché il 4 dicembre è un giorno importante perché se vince sì ci torneranno alla democrazia, va via la democrazia da questo paese e praticamente diventa come una mini dittatura del PD e del governo Renzi. E' ora di mandare a casa questo governo perché il nostro paese è un paese insicuro, dove non c'è più legalità, dove gli stranieri arrivano tutti e ogni giorno, arrivano migliaia e migliaia sui barconi e invadono le nostre città. Non c'è più sicurezza nei nostri paesi e nei nostri comuni. E vedo soprattutto nel nostro paese a Busca, dove negli ultimi giorni, negli ultimi settimane sono aumentati il numero di furti nelle case, nelle abitazioni, in modo elevato. infatti c'è molta insicurezza da parte di tutti i cittadini. E per questo dobbiamo mandare a casa il governo Renzi, mandarlo velocemente a casa il 4 dicembre e dobbiamo fare in modo di far vincere il no e di portare presto Matteo Salvini al governo il più presto possibile per risollevare il nostro paese.